Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Stefano De Martino ha deciso di ripartire dopo la fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez e rivoluziona il look, come si è mostrato. Stefano De Martino sta vivendo, senza ombra di dubbio, uno dei periodi più intensi della sua vita. Ad oggi ha chiuso ufficialmente il suo matrimonio con Belen Rodriguez che sì, ha subito tanti punti d'arresto, ma è comunque durato dieci anni. I due saranno per sempre legati dal figlio che hanno avuto insieme, Santiago, che ad oggi sta facendo i conti per l'ennesima volta con la rottura dei suoi genitori. La notizia della rottura tra Stefano e Belen è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. La showgirl argentina ha dichiarato durante un'intervista da Mara Veniera a Domenica in che, a quanto pare, suo marito l'ha tradita. Non è stato tanto questo ad averla ferita, bensì il fatto che nel momento in cui ha avuto più bisogno di lui, Stefano non l'è stato accanto. Questo le ha fatto capire che doveva chiudere il rapporto e andare avanti con la sua vita una volta per tutte. Stefano De Martino, il nuovo look del conduttore sfoggiato su social ha conquistato tutti. Dunque, se lo scorso anno Stefano e Belen hanno trascorso le feste insieme come una vera e propria famiglia, quest'anno hanno dovuto stabilire quali giorni trascorrere con il loro bambino. Nel frattempo, hanno cominciato ad andarci più cauti sul social e a pubblicare sempre di meno, proprio per evitare di dare in pasto la loro storia e le loro situazioni attuali ai media e alle persone in generale, che ora più che mai hanno gli occhi puntati su di loro. Intanto, un nuovo anno sta per cominciare e sia Belen che Stefano andranno incontro a numerosi cambiamenti. Hanno nuovo vita nuova, e il conduttore ha deciso di inaugurare questo 2024 che sta per cominciare con un cambio look che ha lasciato tutti senza parole. Proprio in queste ore, è spuntato su social un video che ritrae Stefano dal barbiere con un nuovo taglio di capelli che incornicia perfettamente il suo viso. Con questo look ha riscosso molto successo tra i suoi followers, infatti, tra i commenti, tantissimi complimenti per uno dei conduttori più amati del momento della televisione italiana. Quali altre novità ci saranno nel suo 2024? Beh, staremo a vedere. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.